Nell'anticipo del sabato per la ventilonesima giornata nel girone G di Serie D, il Cassino travolge a domicilio la lupa Roma di Marco Amelia, vincendo per 4-1. Partono bene i padroni di casa che provano a mettere in difficoltà gli avversari conquistando due angoli nel giro di pochi minuti, uno dei quali che scaturisce da una bellissima conclusione al volo di Squierzanti che chiama Palombo al grande intervento. Il Cassino però colpisce alla prima occasione, palla sulla destra per Tomassi che guarda la porta ed esplode un diagonale preciso che batte Reali, 1-0. Dopo pochi minuti, al quindicesimo, ancora gli uomini di Urbano in avanti, assist di Darboe che con un tiro cross trova un Reali poco attento e Tribelli con il tapin in sacca. Riapre il match la lupa Roma alla mezz'ora, fallo di Carcione in aria e per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dai 11 metri calcia Anzini di potenza ed è 2-1. Il primo tempo termina così. A rientro in campo il Cassino è agguerrito, vuole il gol e dopo pochi minuti sigla la terza rete. Il marcatore è Lombardi che dopo un errore di Rebecchini raccoglie un pallone di Marchegiani e spinge facile facile il tapin in porta. La scuola di Amelia poi cede anche mentalmente subendo il poker a firma di Nocerino che su calcio d'angolo raccoglie una respinta corta del portiere e spinge in rete. La sconfitta per la lupa Roma è quasi una sentenza chiamata retrocessione. Per il Cassino questo successo invece è un incentivo a sperare ancora in più nei play-off.